Wahey Kooj, ben ritrovati alla vostra Andralinic Not1 in questo nuovo episodio di Nazma Eleven Go Strikers 2013 Ed oggi ecco a noi la partita contro Dark Emperors livello 2 Il team è lo stesso della partita contro la Agius Academy, non ho reclutato questa volta Xavier Che comunque sia dovrebbe essere Zinn qui, però dopo la partita contro Dark Emperors o comunque sia la squadra finale di questo percorso appunto di Nazma City Forse recludo qualcun altro e faccio qualche altro legame magari tra questi tre signorini qui Anche se poi il legame sarebbe meglio farlo con Riccardo e Arion e Goldie però perché non iniziamo questa partita intanto E poi dopo ci diamo da fare con i legami, con il reclutamento e quant'altro c'è di bello In Nazma Eleven Go Strikers Allora Dunque, la strategia è sempre la stessa Però stavolta andrò subito all'attacco Non perdo tempo E invece mi fanno perdere tempo perché io non ragiono Ehi, eh, eh, ma hai fregato Allora, no, siccome stavo giocando col telecomando in posizione orizzontale Ho perso un attimo Ci ho perso un attimo la mano Ok, vediamo un po' Per chi mi abituo subito ma per riprenderci la mano dopo è terribile la cosa Vabbè, nulla di che, nulla di fatto perché tant'altro non era Non si sarebbe mai caricato in tempo davanti alla porta Bene, bene, bene Nooo Porca miseria, stavo per dire Ma gli facciamo gol con l'armatura E Death Drop invece niente, mi ha fregato alla grande Che fa Dark Tornado? Non è Tornado, è Tornado Nooo, dai Ma ti pozza, chiappa C'ho qualcuno in difesa carico? No, niente Non c'avevo niente in difesa carichi Mannaggia la miseria Potrebbe essere un gol, eh Ma tranquillo proprio E vai Sam, non delude Sam, non delude Grande Sam, ti voglio bene Porca miseria, e basta colpirmi sempre Basta Non ti lascio un attimo di respiro Eh vabbè, questo pure Non mi piace il modo in cui sorpassa l'avversario Eccolo, preso Non penso si possa cambiare Il modo in cui il giocatore dribbli Quello è più uno sfondamento che un dribbling Comunque sia, però Non penso si possa cambiare Eccolo, eccolo, eccolo Amodo Ok, carichiamo il potere Il potere, ragazzi Il potere, il potere Il potere Farà questo Non ce la fate Ha! Gol! Oh yeah! Prenditi questo Era il dito Indice, eh Era giusto per fare tipo Oh yeah! Non era il meglio Chiariamo? Ok Che fai tatino? Dunque Riguardo sempre i problemi tecnici Che mi hanno afflitto anche nello scorso episodio Potrebbe non dipendere totalmente dal Dal fatto che questo è un emulatore Perché ho parlato con uno che mi ha detto Guarda a me va tranquillo Quindi Non è l'emulatore Allora potrebbe anche darsi il fatto Che era Il fatto che tenevo Il connettore Il connettore Chiamiamolo connettore La pennetta USB Bluetooth La tenevo La tenevo dall'altra parte del computer Quindi davanti E quindi capace che segnare ogni tanto Andava e svaniva Infatti mi è successo anche che non potessi Più usare il telecomando Neanche in posizione orizzontale Spero che mettendola qua dietro Mi abbia risolto il problema Speriamo Demoncatto si chiamava Bello Però se non ci mettono in mezzo i demoni O qualcos'altro I giapponesi non sono contenti Perché ho passato Perché il mio cervello funziona a metà Non era quello che volevo fare Ah porca miseria No la fenice La fenice Vuole fare la fenice Ah no Colpo triplo Ah boost Ok Tomeruso Speriamo Uo però Oh cacchio parla Eccolo Amo tu Più potente di così non posso Ah un'altra volta Double smash com'è Si double smash Ma non ce la fate Bene 2 a 1 Primo tempo Me lo brucio Ma si me lo brucio Vabbè 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 Stavo pensando Stavo pensando a quando ci poteva mettere a caricarsi Arion Perché Ho visto una partita ieri di un altro ragazzo Comunque sia Che dicono che era bravo Ma in realtà usava le hack Quindi alla fine Può essere bravo quanto ti pare Ma se usa Se usa le hack Non è che Neanche cheat Proprio Hackerava il gioco In una maniera impressionante Quindi alla fine Bravo fino a un certo punto È bravo ad hackerare Quello forse intendevano No ragazzi Questo No no Non è inutile Quando stanno in Ah meno male Mi ha salvato Mi ha salvato Il fischio di fine tempo Mi ha salvato davvero Credo che sia il momento Di far giocare un po' Riccardo È carico E nel primo tempo Gli avevo dato come tecnica Quella combinata con Victor Ma ora gli ho messo Harmonix Ah troppo tardi Non ci ripensavo Che ce l'avesse anche lui la tecnica Per superare l'avversario Quando è così Non ci posso fare niente Se non è carico Il tuo Non ce la fa Lando a caricarla Perché L'unico tiro che c'è Combinato E quindi Senza l'aiuto degli altri È un po' No ragazzi Voglio Voglio provare Un po' di cose Diverse Bene Così ne becco due Eccolo qua Harmonix Vai Non ce la fai a pararlo tanto Il bello arriva Ora che dobbiamo affrontare Le squadre Che hanno anche loro Lo spirito guerriero Eh Lì sarà davvero bello Voglio 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 proprio ridere Dopo No questo c'ha Shadow Simmerion Devo parlare a tutti i costi Non la faccio passare Assolutamente Oh yeah Quanto manca Per la partita Insomma Manca un pochino Prima di poter vedere Qual è l'altra squadra Che dobbiamo affrontare Vado con un attacco Normale Che Devil Burst Non è che è proprio normale Livello 3 insomma È piuttosto potente Vediamo se lo para stavolta No Non lo para Victor Se Se Diciamo Non mi trovo Di meglio Di Victor Dovrei trovare Vladimir In teoria Però Crescendo Farebbe Dopo il Miximax Con Soji Okita Che non è niente male Perfetto No Non ti azzardare Non ti azzardare proprio Vediamo un po' Se trovo Vladimir Prendo Vladimir Però Al posto di Al posto di Al posto di Victor Vladimir E poi gli faccio fare Miximax con Soji Okita O meglio Io non so se si possono passare Qua i Miximax Non penso però Non penso Non penso Non lo so Uh parata Vedrà comunque sia andando avanti Quello che è possibile fare Anche perché Anche perché comunque sia il Miximax Il Lo spirito guerriero Di Vladimir Potente Pendragon O Pendragon L'accento Fatelo cadere Dove volete Dai Dai Oh Stranamente Oddio Che paura Vogliamo riprovare Do Do Corri Vabbè però Finisce insieme No Dai Che è toccato E fuga Ah presto torno Oddio Ma dai Avevo già lasciato Ma che cosa Oddio È troppo divertente No Vabbè No Allora Mi ho rotto le scatole Però Vabbè tanto Oh vabbè Roaring kick Per essere sicuri Sempre Diamo un sicuro Ce l'ho Posso usarla Ok Tanto il tempo Ormai è quello che è Quindi Siamo davvero alla fine Sì Infatti Manca davvero poco Eccolo 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 Sì Dai Usiamolo Brisa Yeah Yeah Haha McQueen Quindi facciamo Fire Blizzard Mc Fire Fire Blizzard Non lo so Vento di ghiaccio E fuoco Non lo so E vabbè Però lo respinge Sapete secondo me Qual è il problema Qua di questi giochi In realtà Secondo me Il tiro a catena Valuta solo il secondo Nel senso che Anche fa il tiro a catena Il secondo tiro Vale come il tiro Del Del giocatore Che il portiere para Secondo me Perché non si spiega Se no Quello era Era un tiro triplo Se no Alla fine Cioè Hai sommato La potenza Di Torch e Gazelle Più alla potenza Di Arion E la potenza Di due tiri Alla fine Doveva essere Gol Quello Però no Dovrò fare Ulteriori ricerche Dai 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 Vabbè però Potevo tirare Invece no Nah Peccato Però abbiamo vinto 4 a 1 Contro Dark Emperals Ah posso fare Mcwind Con l'armatura Ora Perfetto E anche Amada Si è potenziato Sarebbe Wanli Ok I Dark Emper Sono sconfitti Possiamo reclutare La divisa Tutto quanto il resto La divisa La cambierò presto Però eh Non terrò Questa per sempre Ah la Raimon La seconda Raimon La seconda Raimon Questa è interessante Sapete perché si legge Raimon? Ora ve lo spiego una volta per tutte R A I M O N Raimon Il giapponese Va letto come è scritto Tranne S U Che si legge S Solo lì vale Che non si legge come è scritto Ho comprato un Nathan Swift Della Dark Emperors Che non ha tecniche di attacco Ma è un ottimo difensore E centrocampista Più che altro Se vogliamo addirittura E lo mettiamo Qui Perfetto Lui lo spostiamo Qui E a te ti mettiamo Qui Quindi Lui sicuramente Sull'ala Ha molto più utilizzo Che in difesa Serve anche a passare la palla Non solo a bloccarla Ma anche a passarle A dribblare Quando serve E poi loro a segnare Quindi per il momento Il team E va bene E così Poi ho altri due giocatori Gazelle e Torcio Che possono anche tirare Per questo video è tutto Domani ovviamente Continuiamo Intanto stasera Sempre la seconda serie My Hero Once Justice In descrizione Trovate i link Per Twitter e Instagram E se ancora Non siete iscritti Al canale Iscrivetevi E noi ci vediamo Come sempre A prossimo video Bye bye A prossimo video Grazie a tutti.